ciao la mia buona notizia che mi sento di condividere in un tempo in cui si fatica a trovarne di buone e che l'esperienza attuale che come umanità stiamo attraversando ha portato moltissime persone a rivalutare a riconsiderare la presenza della natura isolamento ed il ritiro dal mondo esteriore ci può aiutare può essere una possibilità per comprendere i valori i veri valori e la base dell'esistenza ecco che moltissime persone una gran percentuale di persone in tutti in tutto il pianeta nei quattro angoli del pianeta ha riscoperto il dono meraviglioso di abitare la terra e in sentendo una profonda nostalgia per tutto quello che è mare tutto quello che è bosco tutto quello che è montagna in questo modo si è veramente reso conto del privilegio di abitare la terra il richiamo della madre terra in questo momento è davvero molto forte e ci invita a farci delle grandi domande e a far emergere una grande consapevolezza in noi sul proprio senso profondo delle proprie scelte di vita riconsiderare i passi che vogliamo fare in questo momento è molto importante per noi e per le future generazioni che sono i nostri figli questa è la buona notizia grazie a tutti